andiamo però avanti con recensione cinematografica parliamo un po di cinema ok perché ci sono gli oscar stasera o mentre mi state ascoltando ci sono stati ieri sera o comunque le serate scorse e parliamo di coda children of deaf adults questo significa coda che è un acronimo o in italiano i segni del cuore titolo più scapestrato non ci poteva essere regia di sean header scienziatura della stessa sean header cast emilia jones tra i cozzurre daniel durant marley mattlin emmy foresight eugenio derbes e ferdi walsh pilu che era il protagonista di sing street e infatti è irlandese io lo guardavo diciamo ma io ti ho già visto da qualche parte era il protagonista di sing street se avete visto il film irlandese il film coda è un remake di la femmile ve liè del 2014 di eric latigo credo sia la pronuncia corretta attualmente gli oscar è nominato a miglior film e sembra le quote si siano impennate miglior attore non protagonista troppo zur che ha già vinto dei premi miglior sceneggiatura non originale allora a ecco e ha vinto ai bafta tra i cozzurre appunto emilia jones come migliore nel leading role quindi miglior ruolo protagonista e miglior sceneggiatura originale quindi ha già dei premi importanti cosa posso dire di coda a parte lo chiamerò coda perché i segni del cuore non si può sentire e ogni volta che c'erano le domenelle scelte diciamo ai segni del corpo e coda talmente poco comunque lascialo coda tanto non è che in italiano coda viene male segni del cuore viene meglio secondo me lo vende peggio considerando il significato del film diventa super cheesy perché nelle traduzioni quando non si sa dove andare si fa nel super 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 cheesy perché non si può restare su qualcosa di non capisco capite lascia sta lì c'è lo coda che segni del cuore comunque andiamo il film l'ho recuperato era sul mio apple tv plus da mesi da mesi io quando avevo fatto apple tv plus in irlanda avevo iniziato vedo coda diceva sarà un bel film lo guarderò e tutte le volte lo rimandavo lo rimandavo paradossalmente l'ho recuperato in questi giorni il film mi è piaciuto la storia la riassumo molto semplicemente coda appunto children of deaf adults quindi è un acronimo che si usa per identificare bambini genitori sordi sordo muti e la storia parla di questo è la storia di questa ragazzina che è l'unica persona nella sua famiglia che è udente perché madre padre e fratello maggiore sono tutti sordi sordo muti tutti tre e quindi sostanzialmente lei è a quest'enorme ruolo di responsabilità perché loro sono una famiglia di pescatori di accompagnarli loro perché loro ovviamente in barca da sordi se non hanno un membro della crew che ci sente è pericoloso ed è irresponsabile rischiamo di morire e quindi va con loro in più gli salva diciamo il derriere perché sostanzialmente loro siccome sono sordi sono un po chiusi quello che è interessante il film che racconta anche questo aspetto loro sono un po chiusi rispetto a tutto il resto della comunità perché in america c'è questa idea di comunità e quindi fanno fatica a relazionarsi con gli altri fanno fatica a vendere il loro pesce devono avere qualcuno che tratta che non li freghi e lei serve sempre a questa cosa sono queste scene dove c'è la sveglia che suona alle tre del mattino e lei è quella che sente la sveglia poi deve svegliare tutti è una figura davvero importante della famiglia sulla quale la famiglia si basa per comunicare con l'esterno ove possibile e ove necessario perché in verità lo sono molto chiusi in loro stessi ed è interessante perché descrivo una realtà che a quanto pare coda esiste questo acronimo perché chi è figlio di sordi o comunque sordo muti e invece è nato senza la disabilità a molte ripercussioni psicologiche questo film in larga parte vuole raccontare questa cosa solo che è anche una sorta di coming of age movie perché la ragazza a un certo punto anche per andare indietro un po prendere dietro un ragazzo deve scegliere un corso che l'aiuti per il college e sceglie di entrare in questo corso di canto perché a lei piace cantare però contestualmente lei ha una voce stupenda e diventa concreto grazie a questo maestro di musica un po di spotico però molto umano per molti alti versi diventa per lui chiaro che lei ha davvero un talento e quindi può fare un'audizione per andare a non mi ricordo che università in modo tale mi viene in mente berkeley ma non è berkeley sicuramente è un'altra università comunque per andare ad un'università e avere una scholarship e quindi poter avere possibilità di fare una vita che non sia quella di stare tutta la vita attaccata ai genitori ok perché lei ha questo peso enorme e da qui parte questo svolgersi di eventi ripeto il film è molto interessante perché non è un film che fa della del compatimento il suo pane cioè non ha la stupidità di dire a poverini queste persone sordellire umani come giusto che debbano fare le storie quindi persone che hanno dei tratti comici meravigliosi cioè io ho capito perché questo attore tra il go sur ha ricevuto tante nomination perché è veramente bravo e fa spaccare da ridere a un personaggio che fa spaccare da ridere è il film ha dei toni molto leggeri ecco ha dei toni molto leggeri nonostante è una sorta di dramedi però la commedia prende un po più posto del dramma però ecco per raccontare questi personaggi questa famiglia sorda ha dei tratti che appunto loro si sono esclusi dal resto del paese sì il resto del paese ci osclude perché non vuole imparare non sa imparare il linguaggio dei segni ma tu ti sei mai messo nella condizione di poter interagire con loro no e questo qua lo questo film lo pone benissimo questo dilemma ok e che i figli di appunto questi coda possono provare perché hanno una famiglia che gli dà addosso a loro a questo uno dei conflitti del film un'enorme responsabilità che loro dovrebbero seguire per per tenere in piedi questo clan però allo stesso tempo loro non si mettono nella condizione di poter far parte del resto del mondo quindi è vero che il resto del mondo potrebbe escluderti ma è vero anche tu che per via magari di esperienze pregresse brutte o per via un certo una certa paura di non essere accettato e non confrontarti con con gli altri ti sei tolto la possibilità di poterlo fare a monte e questo film lo mette in evidenza ed è una cosa positiva perché apre un dialogo più onesto con lo spettatore per spiegare determinate cose e lo fa molto bene ed è molto intelligente e lo fa attraverso una commedia un coming of age mescolata a dramedi è molto interessante perché si parla della crescita di questa ragazza che vorrebbe andar via che vorrebbe inseguire determinati sogni ma che gli vengono dati anche delle responsabilità alle quali lei risponde che sono un po troppo grandi per lei con delle leve morali che non sono poi così giuste è un film che comunque mette anche in luce quanto possano essere crudeli le persone che non capiscono cosa significa avere dei genitori sordi nel fin c'è una descrizione cioè viene viene date idea di come è stato l'impatto ad esempio andare a scuola la prima volta cioè noi impariamo il linguaggio anche per osmosi c'è perché abbiamo l'accento perché tu cresci in in un determinato posto dove tutti pronunciano le parole in un determinato modo e tu le impari in quella maniera ok perché riesci magari a pronunciare determinate espressioni dialettali poi vai in un altro posto con un altro dialetto non riesci perché non l'hai imparato per osmosi dovresti imparare la dizione nuova di come parlare quella quel dialetto con l'inflessione di come pronunciare determinate impressioni dialettali l'udito è un enorme strumento tu impari determinate cose per osmosi ok non è che un bambino un giorno dice una parola papà si di a cavallo non lo so david Lynch perché perché qualcuno gliel'hai insegnato a livello didattico ma per osmosi ok se tu sei figlio di sordi e questi non spiccicano una parola quando tu ti troverai dover pronunciare le parole e sei poco esposto a come queste parole sono pronunciate perché sei poco esposto al parlato e tu suonerai molto strano quando parlerai e viene descritta viene un po reso conto di questa situazione anche se sarebbe stato bello vederlo all'interno del film ma probabilmente non c'era il giusto spazio per farlo però ecco è una cosa interessante che non viene raccontata è una cosa interessante capire che per certi versi ci può essere il contraccolpo psicologico di sentirsi esclusi dalla propria famiglia perché è un legame si crea un legame molto forte siamo tutti sordi facciamo tutti le stesse cose abbiamo tutti lo stesso problema comunichiamo tutti lo stesso modo tu ci senti sai parlare sei un po fuori sei un po fuori da questo legame una cosa anche molto divertente la ragazza a casa sta studiando sta facendo i compiti al padre che gratta la griglia facendo un casino disumano perché è sordo la mamma che prepara la tavola e sbatta i piatti butta le posate fa un casino inenarrabile il fratello che gira su tinder con la suoneria palla e quindi ogni volta che fa uno swipe parte sta suoneria è incredibile tutte cose che noi diamo per scontato ma che esistono i genitori fanno sesso fanno sesso facendo un casino boia perché di nuovo siamo sordi non sentiamo non abbiamo idea di cos'è il casino è molto interessante questo discorso che fa il film ed è molto intelligente quindi io sostanzialmente ho trovato coda un film molto affascinante ben fatto che ha la sua parte migliore nel portare al pubblico un problema e una dinamica della quale non si parla molto umanizzandola in modo intelligente attraverso appunto un espediente come quello del coming of age perché si parla molto della crescita di questa ragazza di un punto chiave della sua crescita che la porterà dall'essere la figlia minore o comunque la figlia di 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 che non che sta rinunciando al suo futuro essere una donna che va verso un futuro ok viene fatto tutto attraverso queste dinamiche che sono molto leggeri che sono molto per tutti che riescono arrivare a tutti quindi chapeau al film per aver scelto il modo giusto per raccontare che non è obbligatoriamente un drammone ma che è qualcosa di diverso c'è sound of metal è un film bellissimo però racconta la condizione della sordità perdere l'udito e determinate cose attraverso un canovaccio che in commedia non avrebbe funzionato perché è una cosa diversa perché vuole anche degli intenti diversi ma che potrebbe risultare pesante a qualcuno questo film e sceglie di raccontare una condizione diversa con il sound of metal è sia chiaro le dinamiche sono diverse però non attraverso il dramma come che l'espediente da premio che avrebbe prediletto chiunque altro ma attraverso una commedia sostanzialmente e attraverso un coming of age un film di crescita e perché poi c'è anche la relazione l'esporsi ecco agli altri il mostrarsi agli altri questa ragazza perché si può mostrare per quello che è per il suo cantare è molto intelligente qualcosa io l'ho apprezzata veramente veramente tanto quindi bravissimi difetti io posso dire che è un film che potrebbe rimanere relativamente cioè nel senso che per quanto sia ben congeniato a livello di commedia per quanto il coming of age sia interessante perché viene scelta la musica anche per quanto semplicistico possa essere però mettere in contrasto una famiglia di sordi con una figlia che è l'unica udente che paradossalmente ama il canto quindi le piace cantare quindi una cosa che loro non possono neanche apprezzare perché non la sentono cioè come fanno a apprezzare come fanno a sapere se la figlia è brava o meno tant'è che ci sono diverse dinamiche anche riguardo questa cosa perché loro non riescono a accettare per certi versi questa cosa perché cantare come facciamo se non sei capace cioè il fatto che loro non lo percepiscono mettono in dubbio che gli altri possono giudicarla bene è assurdo però può succedere è molto umana come cosa ripeto l'umanizzare i personaggi e non unicamente attraverso la loro condizione ma attraverso il fatto di essere persone che è una cosa che dimentichiamo sempre di fare comunque al di là di tutto questo dicevo il punto è che per quanto interessanti le soluzioni non sono così non a me ha commosso sotto certi punti vista però non è un film che probabilmente da qua cinque anni come sempre capita in questi casi torneremo a dire cavolo mi sono rivisto coda l'altro giorno non è un film che probabilmente diventerà un comfort movie a livello di massa magari cioè in questo momento magari va molto forte verrà visto da molte persone però potrebbe essere un film si dice lo dico spesso di molti film perché è molto difficile fare qualcosa che rimanga per tanto tempo però questo film ecco potrebbe non rimanere per così tanto all'interno della memoria del pubblico o comunque all'interno del cinema potrebbe scomparire molto 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 velocemente anche perché ha avuto il buzz grazie agli oscar come capita molti film abbastanza piccoli però ecco non so se è un coming of age che una volta ogni tanto per sentirti meglio andrei andrei a riguardare andresti a riguardare anche perché la dinamica della musica è molto il sogno di diventare una cantante cioè molto ai margini e non è così affascinante proprio serve per veicolare altri messaggi quindi è un film che funziona lì per lì ma nel lungo periodo non credo funzionerà così tanto cioè è il momento di questo film poi si perderà credo sia inevitabile non è così forte e Grazie a tutti.